daniele gabriele portierone dell'alba roma prestazione molto molto buona la tua l'alba roma ha portato la gara la condotta però c'è stato un attimo nel secondo tempo in cui avete visto brutti fantasmi e tu l'hai salvata sei d'accordo si è stata una partita molto equilibrata soprattutto primo tempo all'inizio della della ripresa dove loro forse hanno spinto un po di più ci hanno dato un po di difficoltà fortunatamente diciamo ancora paro la mia età ogni tanto e quindi l'ho tenuta lì però giustamente faccio parte di una squadra che poi durante l'arco del secondo tempo ha saputo ribaltare la partita visto che eravamo in svantaggio 1 a 0 e portarli e portarci alla vittoria quindi faccio un complimento a tutti i complimenti a tutti i ragazzi che stasera hanno fatto una super prestazione anche perché erano un po arrugginiti quindi bene così vi accodate le vittorie di atletico tevere e barzotto team barzotto team che addirittura ha vinto 12 a 0 contro gtonic united che sarà la prossima avversaria vostra nel derby dell'empire pensate di vincere anche quella pensate di essere una candidata alla vittoria finale ma non so se saremo una candidata alla vittoria finale sicuramente giocheremo tutte le partite per vincere come penso faranno tutti i nostri avversari un campionato che è la sua prima giornata quindi è ancora indecifrabile per quanto ci riguarda speriamo di comunque di continuare su questo trend con tutti i ragazzi e portare qualcuno che ci possa dare una mano durante durante l'arco del campionato perché comunque un impegno abbastanza complicato e avremo bisogno di tante tante energie per portare al termine questa stagione